Nuovo ricorso contro Città Metropolitana e Solter da parte dei comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e del Parco del Roccolo. È una guerra fatta di carte bollate, quella contro la discarica. Questa volta però il ricorso al TAR da parte degli enti locali riguarda la sanzione applicata da Città Metropolitana contro Solter, una sanzione di circa 16.000 euro per il mancato monitoraggio della fauna e della flora, una sanzione che per i comuni è troppo bassa. La questione si riferisce a una prescrizione stabilita dalla stessa Città Metropolitana che ha inserito in tutti i documenti di questo processo autorizzativo e riguarda il monitoraggio che Solter avrebbe dovuto realizzare prima di iniziare i lavori sulle specie di fauna e flora presenti, si chiama ante operam proprio perché deve essere realizzato prima. In realtà Solter non l'ha fatto, nonostante una diffida del comune di Busto Garolfo, nonostante avessimo avvisato Città Metropolitana, Città Metropolitana non è intervenuta. Soltanto successivamente Solter ha presentato un documento parziale per sua stessa ammissione cui dice che chiaramente non è stato possibile fare un monitoraggio completo perché ormai avevano già tolto tutto. e Città Metropolitana su nostra insistenza è intervenuta con una sanzione che è francamente molto morbida, quasi al di sotto del minimo stabilito per legge. Questa continua rendevolezza di fronte a Solter da parte di Città Metropolitana fa pensare che ci potrebbe anche essere qualche elemento che configura addirittura il reato di omissione di atti d'ufficio. Grazie a tutti.